L'ospite di oggi, Diego Gioacchini, 19 anni, arriva da Pesaro. Fa giocoleria con il fuoco da circa due anni e mezzo e senza fuoco da nove anni. Fa parte del gruppo Arte della Fenice di strada. Attenzione, avviso a tutti i telespettatori, ammirate la bravura di Diego, ma non provate a imitarlo perché è pericoloso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.